Musica Hola a tutti ragazzi sono il vostro Luke E oggi siamo qui in questo video speciale Natale Spero che l'audio vi senta bene Inoltre ragazzi sono anche raffreddato, febbre, di tutto e di più Sono molto malato quindi può dare si sentirà un po' strano il microfono Però va bene Oggi siamo in un speciale Natale quindi prima cosa vi auguro buone feste a tutti Buon Natale e oggi andremo a costruire le build battle speciale Natale su iPixel Il tema ragazzi è un angelo ovviamente vedete che ho già perso un minuto Perché dovevo startare il video però noi comunque andremo a costruire Raga ovviamente qui nessuno c'è il brevetto da costruttore Quindi se sbaglia a costruire è perché la vita è così Fatto anche la rima bello mamma mia come so bravo Allora un angelo raga come caccia si può fare un angelo Io direi di fare prima cosa le ali Cioè ragazzi sono temi un po' difficili un po' complicati Poi se non capisci l'inglese che se lo fai non lo so Allora cominciamo a fare subito una specie di ala E poi io le faccio anche un po' culette Sperando di riuscire a fare Ok questo si può dire con ala per esempio no Poi qui facciamo partire un'altra ala Sì raga comunque farò in 2D in modo che è anche più comodo Senza fare 3D per costruire ci metto 20 anni E vi ripeto raga in caso che magari i video saranno un po' moscio eccetera Perché sono io un moscio in primis Siccome sto poco bene Più che pantalugini però dovremmo fare tipo una con no Perché adesso uno potrebbe dire che fai Angeletto omosessuale E raga perché non ce sanno gli angeli gay Scusate Comunque raga a parte i scherzi Allora Così vediamo un po' come farla sta gonna Cioè gonna raga poi Come la volete chiamarla chiamate Anche veste come volete voi Ok Non mi piace tipo mai però va bene Sembra più la fatina dei denti come sta uscendo Cioè manco gli ho fatto la testa già sembra quella Allora facciamo questa testa un po' bruttina E gli facciamo una testa gigante raga Tipo Proviamo a costruire vediamo che esce Poi alternanza lana e argilla è molto bella Devo ammettere Allora Facciamo così Senza naso Perché giustamente il naso non ce l'hanno gli angeli Sono particolari Color Mamma mia Mamma mia che brutta cosa Che poi sembra che non abbia le braccia Allora le braccia le dobbiamo fare no Quindi facciamo partire tipo le braccia così Ma non si capisce tipo mai che sono braccia queste Allora o le facciamo tipo così Ma che braccia strano c'ha questa È un angelo un po' strano va bene No raga davvero lo so che sto a fare un angelo bruttissimo Che poi sembra tipo una signorina Ed è pur senza capezzoli Senza Maronami che brutta cosa a Natale Che brutta cosa a Natale Allora facciamo così E che chezza Raga fa un po' schifo Fa eh lo devo ammettere Soprattutto questa zona qua O la facciamo dritta così Ma fa ancora più schifo O la lasciamo in questo modo Sapete raga che davvero Non lo so Poco sto mal di testa Non sono neanche tanto lucido Che quello che faccio Vabbè Pensiamoci dopo ai piccoli dettagli Dobbiamo completare la testa Quindi c'è il giallo Sì per forza Eh infatti c'è Gli facciamo i capelli gialli Ma raga Decidete voi se il maschio femmine Intanto faccio così Non so che dirvi A parte sembra anche riccioli d'oro Adesso c'è sempre tutto del più Questo non è un angelo normale È molto rivoluzionario Sembra tante cose Allora dai Piazziamo tutti i blocchi Mi 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 Poi raga Qui non è come quando faccio le build battle Su altri server italiani diciamo Qui ci sono un botto di player E ci sono davvero quelli bravi Quindi eh Me la devo batte un po' più difficilmente Allora diamo un po' Non mi si dà Ok va bene Che poi raga Più che un angelo Sembra una cantante Dei cugini di campagna Cioè Sembra un cantante Dei cugini di campagna Io ti dirò Dalla quale Ma roma mi Cioè raga Mamma mia No aspetta Ecco adesso ti diranno Che schifo Che cos'è No allora Raga Ho capito che a Natale Sì sempre più buoni Ma qua per forza ci vuole un super pup Ma che cacchio è Poi ha fatto i capezzolini Vero raga Io ho dimenticato anche la corona Comunque questo qua Allora mettiamo pup Giusto per Perché la faccia è odiosa Tiamo proprio odiosa Eh Good good Mi vuole tutti quanti qualcosa Schifo in mano Eh facci una triste Voglio dire la tua Bello Ecco questo qua Per esempio Che cacchio è Sembra Michael Jackson Tutto addobbato Quindi mettiamo super pup Raga mi dispiace E in Natale Siamo tutti più buoni Ma in questo caso Non posso fare altro Questo qui Diciamo che Mettiamo un ok Ma giusto perché sono gentile Perché davvero Questo lascia poco A desiderare Questo invece Secondo me è più interessante Vero? Eh questo mi piace Cioè questo è good C'è sta Questo è good Che poi ragazzi Quando lo fanno in 3D C'è anche più bello Però ci mette più tempo a costruire Questo veramente fa schifo Cioè ti voglio bene Ma fa schifo Buon Natale Nel dubbio buon Natale Vediamo qua che cacchio è Merry Christmas Vabbè a te ti metto Pup Soltanto perché Anzi ti metto ok No 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 Ma oggi ho dato good No no che leggenda Riu ma che sei matto Ok gli ho dato good Per spaglio Perché ho fatto Merry Christmas Però vabbè dai Questo qua Pup Raga non mi piace Questo è proprio Pup Che questo è più ganaggio Me lo pare quello che trovi Sulla taggenziale Senza fare nomi Però mi sembra molto brutto Mi sembra più che altro Panichino eh Per non essere volgare Eh questo pure è bellino Anche se Che cazzo ci ha messo le corna Ragazzi ci metto Ok ma Cioè che ci ha messo le corna qua Sono arrivato decimo Su quanti Eh No vabbè Ne siamo una decina Più o meno ragazzi Cioè io sono stato L'ultimo E c'è gente che ha fatto Merry Christmas Scusi signorini E poi non mi ricordo nemmeno Chi ha vinto Oltretutto Vabbè ragazzi Andiamo a cercare La seconda partita Ragazzi eccoci In una nuova partita Venete trovata Il tema è il Nord Pole Quindi il Polo Nord E che ci vediamo per il Polo Nord Allora io direi Prima cosa Di fare tranquillamente Il Regno di Chià Perché ci sta Ovviamente Però non so se usare Vabbè usiamo un'alternanza Di ghiaccio compresso Che non troverò Tipo mai subito Eccolo qua Pucket Ice E poi L'ice normale Ok vediamo un po' Sì secondo me Si può fare un'alternanza Perché non vorrei mai Ragazzi che si squaglia Tipo questo Anche se dubito Col clima Però Se succede Non si sa mai Quindi facciamo un po' Di ghiacciai Eh raga Il Polo Nord Sapete che è un po' È una cosa ambigua Nel senso che non so Tanto cosa fare C'era che più oltre Farò degli iceberg So che quelli stanno Nell'acqua Però in questo caso no Perché non ho detto Di fare proprio le montagne Vorrei pure Architettare qualcosa Ok dai mettiamo Un po' di blocchi di ghiaccio Così come va Un po' collegati Raga Io vi ripeto Non ho il brevetto Da costruttore Quindi non venite a fare I proetti Nei commenti Soprattutto perché Natale Non mi voglio incazzare Comunque Andiamo a costruire Sta costruzione Giochi di parole Bellissimi Ok Pensiamo un po' Di blocchi a cazzo Modganes Cioè raga Questo è proprio Il grande impegno Per sta costruzione Vabbè raga L'impegno in questa costruzione Più che altro Lavora la mente Perché dobbiamo capire Un po' che cacchio Costruire Cioè raga Alla fine Passa piazza e blocchi a casa Dobbiamo creare I poteri Nastri Barra rocce Barra iceberg di ghiaccio Quindi non è niente di che Però dobbiamo crearle Ok Poi Ma dobbiamo Intanto raga Non so perché Ci sono le mosche A mezzanotte A mezzanotte Un cats E luna Che mi inseguono Proprio mi inseguono Io sto fermo Ma mi inseguono Giustamente Sono molto intelligente Ma ricordo che A luna di notte Non sto manco bene Però vabbè Raga Molti potrebbero dire Ma perché Ma perché stai facendo Questo video A luna di notte Ma si strunza Raga Allora Sono stato male Tutto il giorno Male non pensate Oh ospedale Ricoperato Che senso male Poco bene Mal di test Eccetera Il raffreddore Che si sente benissimo Ora che odio E appunto Non stando bene Non ho avuto il tempo Durante il giorno Però adesso Che è luna Ho deciso Di comunque Recca Per non farvi mancare Un video Perché vi voglio bene Magari Lice perché qui Lo facciamo più piccolo Perché senza fare Le cose giganterrime Ci abbiamo poco tempo Ancora volendo Non è che sia proprio tanto Però raga La cosa che forse Non mi piace Che sto sbagliando Che sto facendo Troppo tipo un cerchio Troppo Roba Capito Troppa roba Ok Però raga Deve essere un po' più sbrigativo Mi sto concentrato troppo Su qualche blocco Che piazza Eccetera Eccetera Deve essere un po' più veloce Guarda Così Piazziamo qualche blocco Ecco Cioè raga Mamma mia Mamma mia Comunque ragazzi Fino a che siete in tempo Siccome oggi è 22 E ci avviciniamo a Natale Questo minigames Verrà tolto dopo Natale Quindi se lo volete fare È anche bello Perché comunque È un tema natalizio Ci sta tantissimo Ok Dopo avrei fatto questo No Non lo potrebbe Di più Ma che schifo hai fatto Hai messo 4 blocchi Messi in grouce E voi aspettate Adesso Noi facciamo in questo modo Noi Io faccio in questo modo Sono da solo purtroppo Allora 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 Facciamo così Mettiamo ogni Facciamo così Tipo una formazione Mettiamo appunto Qualcuno ce l'avrà capito Che sono anche lì I cosi di zucchero I bastoncini Tipici natalizi Che poi Non l'ho mai mangiato I bastoncini così a Natale Però Questi sono dettagli personali Magari voi L'ingozzato di questi bastoncini Che l'ho sempre visto Nei cartoni animati Nei film Ma mai mangiato Eh sì Una cosa strana Ok Ok Il problema ragazzi Sapete qual è Al centro Non so cosa fare Poi inoltre Mi manca pochissimo tempo E sto finendo appunto Il tempo a disposizione Cazzo Sì Cazzo 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 Eh raga A Natale non si devono dire cazzo Scusi cazzo Allora Mettiamo questo qua Mettiamo questo qua Mettiamo questo qua Maronmi la velocità La velocità di Peppa Pig Che costruisce Attenzione Pam Pam Brang Sbrung E qua ci vuole un'altra cosa Cioè raga Volevo fare un pacco regalo Al centro Adesso che ci penso C'è stava bene Però non so manco Se c'ho il tempo Per piazzare L'ultimo bastoncino Eh probabilmente No Vabbè il bastoncino sì Per il resto no Vabbè raga Noi ci abbiamo provato È stata una cosa Madò 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 Perché mi devo già pagare Eh non mi posso far così Non posso far così Pup Madò L'ultimo blocco Ah non me l'ha fatto manco Piazza grazie Santaville No 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 Raga questo Non prende poop Fa proprio schifo Ve lo voglio bene Ma non mi piace Questo qua Mettiamo Poop Perché raga Non ho capito bene La combinazione che ha fatto Questo che cacchio è Questo che cacchio è Questo che roba È gringio ancora No raga Questo pure poop Non mi dite Ah ti sto pure trattando bene Quindi non mi dite È Natale E tu fai cattivo Questa è la casetta Schifo Questa è super poop E lo sto pure graziando Perché non si può mettere da peggio Mmm Questa qua Non so Secondo me quella fa tipo Una fabbrica dei regali Non lo so Mettiamo poop Anche qui Perché non capisco Eh questa raga Cioè c'è state più Penso eh Perché comunque In ambiente natalizio Ci stava benissimo Un pacco regalo al centro Che non ha avuto il tempo di farlo Ripeto Non stando bene Non c'ho manchi riflessi Un altro po' Questo è bello Questo ok Anzi pure good Se lo merita Raga Dobbiamo essere sinceri Ah e questa ha vinto un sacco Di cender Ha votato Legendary Che ha detto Wow Legendary Poi vola Annuncio Ok questa pure ci sta Good ci sta Ci sta Ci sta Era davvero fatta bene Questa qua metto ok Perché c'è solo Babbo Natale Lui doveva ricreare Il polo nord Però ha fatto Babbo Natale Questa pure metto No metto poop No per cattiveria Ragà Ma non mi sembra tanto il tema Che ha chiesto Questa ha fatto Non dico qual a me Ma simile l'idea diciamo Però ha non messo niente Ah ok ok Ho votato ok Come volevo Qua metto super poop Perché non mi piace Cioè poop scusate Non mi piace per nada Questa è Ah questa ci sta però È una casetta fatta bene Gli metto l'ok Davvero solo per la casetta Perché davvero fatta bene Mi ha subito Fatta attenzione Questa non mi piace Perché raga va bene Il polo nord Però non Richiamo lo spirito natalizio Mi dispiace signor Sono arrivato Terzo Lasciate like Commentate Condividete Ci becchiamo al prossimo video Buon Natale Buone feste a tutti Ci becchiamo alla prossima E ciao ragazzi